In Cina è ancora paura per la previsione di nuove scosse di terremoto. Migliaia di persone nella Cina occidentale hanno trascorso la notte accampate in parchi o in spazi aperti o nelle automobili, dopo che ieri la televisione aveva trasmesso un'allerta del governo regionale sull'arrivo di una nuova forte scossa. La gente fa la fila davanti ai negozi che vendono tende e altre attrezzature da campeggio. Pochi ormai hanno il coraggio di rientrare nelle proprie case. Purtroppo si avvertono e registrano continuamente scosse di assestamento e questo fa sì che il panico nella popolazione non diminuisca. La Cina è intanto in lutto per le vittime del sisma, che sono a tutt'oggi 71.000 tramorti e dispersi. Il governo di Pechino ha comunicato che autorizzerà l'accesso alla provincia di Sichuan di equip mediche straniere ed ha inoltre lanciato un appello per l'invio urgente di tende per ospitare circa 5 milioni di persone che hanno perso tutto nella catastrofe.